L'idea di trasformare l'ex sanatorio di Villa Angerer in un centro di salute e benessere, annunciata di recente dall'imprenditore dei trasporti Eleuterio Arcese, ha ricevuto l'apprezzamento del sindaco Arcense Betta e del presidente di Garda Trentino Sviluppo, Graziano Rigotti. A disposizione del nuovo centro, che sarà specializzato nella prevenzione delle patologie, vi saranno anche le competenze del medico di origine rivana Luigi Fontana, esperto di livello mondiale nell'ambito della nutrizione. Betta spiega che fisserà un appuntamento con Rossi per farli incontrare Arcese e apprezza molto queste nuove realtà, che hanno un grande potenziale turistico, aggiungendo poi che sarebbe meglio ci fosse un gruppo di investitori in grado di lavorare assieme a tale progetto. Rigotti, dal canto suo, afferma che Arcese è una garanzia in termini di serietà e organizzazione e che quella che si prospetta è una grande occasione per il rilancio di una struttura splendida, ma che versa in completo stato di abbandono e rovina.